Quasi 2000 persone a Udine e centinaia a lungo il percorso che da Trieste ha attraversato la regione hanno partecipato tra sabato e domenica alla Marcia per la Pace. L'iniziativa internazionale che è partita in ottobre dalla Nuova Zelanda attraversa i cinque continenti per concludersi in gennaio in Argentina. Un'iniziativa che ha unito anche nel capoluogo friulano esponenti di varie nazionalità e religioni uniti nella speranza di un futuro senza guerra. 100 nazioni attraverso 5 continenti sono i numeri della Marcia per la Pace e per la Non-Violenza che è partita da Wellington in Nuova Zelanda il 2 ottobre, la data in cui nacque il Mahatma Gandhi, si concluderà ai confini della Terra del Fuoco in Argentina. Ieri è stata la giornata più importante del fine settimana promosso dall'organizzazione internazionale Mondo Senza Guerra in Friuli, un'iniziativa che ha raccolto un numero impressionante di adesioni. Basti pensare che anche in Italia una delegazione è stata accolta durante il passaggio nella capitale dal presidente della Camera Gianfranco Fini e in Vaticano da Papa Benedetto XVI. La Marcia per la Pace e la Non-Violenza è arrivata in Friuli-Venezia Giulia sabato a Trieste e da Lubiana. Ad accoglierla c'era il sindaco di piazza e in piazza Unità d'Italia i partecipanti hanno formato con una catena umana il simbolo della pace. Ieri mattina è partenza dal CIE di Gradisca di Sonso alle 10.30 per percorrere i 37 chilometri della statale che porta a Udine a darsi il cambio una ventina di atleti. Durante il tragitto due tappe, attorno a Mezzogiorno a San Giovanni al Natisone, quindi attorno a l'una e mezza a Butrio. In entrambi i casi erano stati organizzati dei comitati d'accoglienza. La marcia è arrivata a Udine da via Palmanova attorno alle 14.00, un passaggio salutato per le vie cittadine dagli udinesi con applausi, scatti di fotografie e persone che si univano al gruppo per percorrere simbolicamente almeno un centinaio di metri di percorso. In piazza San Giacomo il gran finale a partire dalle 18.00. Gruppi musicali, interventi del sindaco Furionsel, del consigliere provinciale Bassi in rappresentanza del presidente Fontanini e ancora applauditissimi un ragazzo israeliano e un palestinese, entrambi residenti a Udine, che si sono scambiati le bandiere dei propri paesi. E ancora il messaggio del centro tibetano è quello dell'associazione islamica, fino ai palloncini che hanno portato in cielo la bandiera della pace. Cerca 2000 le persone che hanno assistito alla manifestazione nel capoluogo friulano. Abbiamo invitato tutti, ha commentato Massimo Vespero, del coordinamento Udine for Peace, perché la pace non ha ideologia o colore politico né religione.